allora ovviamente abbiamo quattro ticket perché ovviamente ho pubblicato ho pubblicato oggi stesso la shiryu di selfie dove praticamente abbiamo fatto l'intersected di selfie e abbiamo cioè ho praticamente completato la shiryu col personaggio sinergico senza friend support senza niente ma ho dovuto portare un team che mi ha fatto letteralmente calare il sonno infatti ho accelerato tutto il video perché veramente era di una monotonia pazzesca quella battaglia e ho preferito accelerare per per evitare di farvi strappare gli occhi anche a voi così come stavo facendo io allora andiamo intanto col free ticket andiamo però da questo lato perché rams e io la bt in realtà ce l'ho però abbiamo anche la free multi data dalla campagna questa è una cosa fighissima tra l'altro allora free multi prima da questo lato perché tanto io la bt di ramsa in realtà cioè io la bt di ramsa in realtà ce l'ho stavo dicendo però una copia sinceramente non mi fa schifo però la bt di ramsa la bt di ramsa già ce l'ho però va bene così visto voi andate contro la mia opinione e poi succedono queste cose succedono esattamente queste cose ci sarà un motivo se io vi parlo e vi dico no la fr non mi è uscita va bene vabbè va bene così ramsa ce lo siamo portati a casa con la free multi però vabbè io già ce l'avevo quindi non è un problema e ora andiamo a vedere invece da questa parte con sabin e ramsa perché di ramsa fondamentalmente mi servirebbe solo la fr di sabin ovviamente mi serve tutto di sabin mi serve letteralmente tutto quindi vediamo se magari almeno la fr me la danno leo che dai cambia no va bene va bene va bene va bene allora andiamo di ticket viola ho visto un piccolo laghiettino però però non credo che sia non credo che sia quel tipo di laghiettino eh non credo che sia quel tipo di laghiettino anche perché è orba azzurra vediamo e invece sì e invece sì il laghiettino il laghiettino c'è il laghiettino c'è e vi ringrazio a tutti quelli che mi portano sfiga o che provano ancora a portarmi sfiga come soffi che ci prova lui ci tenta ancora è lì che ci prova e non ci riesce qua mi verrebbe in mente il discorso di Giorgia Meloni dove dice che la pietra rimane pietra e la goccia d'acqua rimane soltanto acqua tipo una roba del genere va bene e anche Sabine e anche Boku che mi diceva che Sabine non sarebbe uscito e invece poh mi esce anche Sabine così giusto così giusto per farvi capire chi è il padrone di casa e ora ci vuole anche la la FR di Ramza ora ci vuole anche la FR di Ramza oggi così on fire oggi vi disso tutti così andiamo una volta ogni tanto vi disso a tutti così sto cazzo non mi interessa niente voi più mi portate sfiga più mi augurate cose brutte e più a me capitano cose belle e mi va di culo perché così funziona il karma la vita il karma funziona esattamente così fate del bene e riceverete del bene fate del male e riceverete del male quindi voi continuate a fare del male che verrete puniti piano piano ok andiamo a vedere sta FR di Ramza mi sa che ho fatto la cazzata sua per Omnia ho pullato tutto banner con le armi più rare quelle è le B aspetta ma dove è il global perché dove è pullato scusa ma io la FR di Sabin la FR di Sabin mi sa che ce l'ho comunque io la FR di Sabin mi sa che ce l'ho credo che forse ce l'ho ma non l'ho maxata nel global e in quale scusa in quale banner hai pullato perché ho pullato tutto sul banner con le armi più rare cioè ma ci sono diversi banner però in global adesso dai bella FR di Ramza e chiudiamo in bellezza no ovviamente no allora andiamo a buttare sti ticket così per hobby vediamo se Ramza ci fa la cortesia dai Ramza dai Ramza dai Ramza su oh 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 è partito il laghiettino è partito il laghiettino ragazzi ce ne siamo usciti con 20 ticket qui è partito il laghiettino è presto per il culone però c'è stato il laghiettino però c'è stato il laghiettino solitamente il laghiettino indica yes 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 culone 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 ora lo potete dire culone ora si ce ne siamo usciti con 20 ticket e abbiamo sbaliggiato due banner su due quindi ora per esempio Sabin dovrei farlo verde solo perché è stato gentile dovrei farlo verde perché è stato gentile dovrei farlo verde perché è stato gentile che facciamo? beh lo scopriremo ecco